Avrebbe avvicinato una donna di 39 anni intenta a fare jogging molestandola dopo averla trattenuta per un braccio. Un uomo di 37 anni richiedente asilo di origine afghana è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di stato a Crotone con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto è avvenuto a Crotone lungo la passerella del porto industriale di Crotone. La donna impaurita è riuscita a divincolarsi e a fuggire prima a piedi e successivamente a bordo della sua auto. Poco dopo è ritornata nel luogo dell'aggressione riuscendo con il proprio smartphone a scattare delle foto del 37enne che ha consegnato agli agenti della volante, giunti sul posto a seguito di una sua segnalazione al 113. L'uomo, regolarmente presente in Italia perché richiedente asilo e in attesa delle determinazioni degli organi competenti, è stato identificato e rintracciato dai poliziotti che gli hanno notificato il provvedimento.